Buongiorno a tutti il mio nome è Giulia Damaro Valle dal 2014 insegno storia dell'arte in lingua inglese al Martino Martini inoltre sono referente CLIL insieme alla collega Iris Tania Verlato oggi vi voglio presentare il progetto CLIL appunto dell'istituto partiamo dalla base che cos'è il CLIL il CLIL è un apprendimento integrato di lingua e contenuto CLIL sta per content and language integrated learning consiste nell'insegnamento di una materia curricolare una disciplina attraverso una lingua veicolare diversa quindi da quella che normalmente si usa per comunicare può essere il tedesco può essere l'inglese o qualsiasi altra lingua di solito comunitaria cosa prevede quindi il progetto CLIL al Martini innanzitutto una copertura di tutte le classi dell'istituto in maniera trasversale su tutti gli indirizzi quindi dalla prima alla quinta in ogni sezione verrà affrontato almeno un modulo in lingua in discipline diverse ovviamente a seconda dell'indirizzo gli insegnanti che lavorano con il CLIL sono specialisti nella loro disciplina e hanno una certificazione linguistica di livello minimo c1 in alcuni casi sono bilingue o madrelingua due referenti CLIL io stessa e la collega Irisania Verlato siamo a disposizione di studenti e genitori e ovviamente dei docenti per qualsiasi informazione necessità in relazione al progetto CLIL su prenotazione tutto l'anno secondo l'orario che viene comunicato all'inizio dell'anno scolastico assistiamo i docenti CLIL sui dubbi linguistici consigli sulla preparazione materiali e la progettazione di attività con gli studenti monitoriamo anche mensilmente i materiali prodotti e l'andamento del progetto c'è una commissione CLIL quindi gli insegnanti che i docenti che sono coinvolti nel progetto CLIL partecipano mensilmente ad una commissione ad un incontro per favorire la comunicazione il dialogo il confronto sulle diverse tematiche riguardanti proprio la metodologia la lingua la produzione di materiali la gestione della classe incontri test e anche l'utilizzo di griglie di valutazione condivise e di lesson plan per ottimizzare la collaborazione fra docenti viene ovviamente spinta la collaborazione fra docenti di discipline diverse con moduli interdisciplinari ma anche la collaborazione con il docente di lingua della stessa classe per affrontare insieme alcune tematiche esiste poi un database di materiali CLIL l'istituto ha creato una banca dati una sorta di banca dati di materiali CLIL appunto dove ogni docente che crea materiali in lingua della sua disciplina ad integrazione o a volte a completa sostituzione del libro di testo rende disponibile questo materiale ai colleghi accompagnandolo con schede esplicative e che verrà poi caricato nell'area riservata del sito a fine anno costituendo di fatto nel tempo una fonte preziosissima di materiali che tutti noi docenti CLIL possiamo consultare e anche riutilizzare di volta in volta sia nella stessa disciplina che in discipline diverse perché si possono prendere spunti molto interessanti. Un punto per noi fondamentale è la formazione continua sia dal punto di vista linguistico che metodologico e ve lo faccio raccontare nel dettaglio dalla mia collega. Salve a tutti sono Eris Tania Verlato e insegno storia in CLIL inglese nella nostra scuola dal 2017 raccontare e condensare in pochi minuti cosa significa essere docente CLIL nella nostra scuola è davvero difficile perché sono tante le dinamiche che si sono attivate per cercare di essere coerenti con quello che è sostanzialmente il contenuto della materia che viene insegnata quindi la storia, la meccanica, la storia dell'arte, qualsiasi tipo di materia e un buon livello di lingua portato avanti dai docenti madrelingua, i docenti di classe hanno una competenza linguistica a livello C1, C2 e gli studenti che vengono educati, guidati in un percorso che poi porterà anche a loro l'acquisizione di queste certificazioni. Il livello linguistico viene controllato con innanzitutto una conversazione in lingua e la maggior parte delle volte quando ci si incontra in aula insegnanti o chiaramente anche per la scuola insomma e poi con dei corsi di formazione specifici per gli insegnanti CLIL a livello basic il primo soprattutto magari per i docenti CLIL che entrano per la prima volta nella nostra scuola e poi un livello advanced di solito in primavera. I corsi CLIL advanced di formazione per i docenti all'interno della nostra scuola sono tenuti da professori universitari o che vengono da fuori regione o addirittura dall'Inghilterra o dall'Irlanda, dai paesi anglofoni. Abbiamo poi un altro momento molto interessante che abbiamo costruito per una formazione continua sia dei docenti ma anche degli studenti. Fino l'anno scorso docenti e insegnanti si trovavano in attività pomeridiane di conversazione in lingua inglese con madrelingua, sorseggiando una tazza di tè e mangiando un pasticcino, una fetta di torta e questo permetteva di sviluppare quella fluidità del linguaggio che tanto è necessaria per gli studenti e anche per gli insegnanti al giorno d'oggi. La modalità che avrà quest'anno questa attività sarà invece chiaramente una modalità online. Il tutto in maniera entusiasta e consapevolmente giocosa perché siamo tutte consapevoli che se il CLIL viene sfruttato e viene utilizzato in maniera positiva e anche attraverso dei giochi, attraverso delle dinamiche di gruppo, attraverso delle costruzioni di gare, presentazioni e speech quindi, viene diciamo così più facile poi anche imparare la lingua e imparare a quello che è destreggiarsi nel mondo del lavoro un domani. Quindi la dinamica che abbiamo pensato per il CLIL della nostra scuola sono di coerenza con un sistema che lega e ancora fortemente al contenuto perché prima di tutto c'è il contenuto ma poi diciamo così stando attenti e sviluppando anche quelle che sono le competenze trasversali dei nostri studenti per cui una fluidità di linguaggio, attività di monitoraggio continuo anche per i docenti e tutto per riuscire a portare la lingua ad un livello veramente molto alto come ci stiamo rendendo conto che di anno in anno è soprattutto verso gli ultimi anni della nostra della nostra scuola. Hello there, welcome or welcome back to my channel. Today we're talking about Charles the Great. Have you ever heard of him? Well, whatever your answer was, allow me to introduce you the king of the Franks. Per rilevare eventuali criticità e per garantire una crescita del progetto dobbiamo monitorare i contenuti e la soddisfazione e soprattutto la ricaduta del CLIL. Questo avviene attraverso diversi strumenti. Il primo è la somministrazione di un test linguistico, un vero e proprio placement test che quindi va a indagare il livello del ragazzo in quel momento come una fotografia. All'inizio e alla fine dell'anno scolastico viene somministrato in ogni classe. I risultati vengono poi ovviamente registrati e comparati di anno in anno per valutare la crescita linguistica di ciascun ragazzo che è frutto della ovviamente disciplina linguistica quindi dello studio individuale dell'inglese o del tedesco ma anche dell'esposizione alla lingua attraverso il veicolo del CLIL. Vengono somministrati poi dei test di soddisfazione a docenti, studenti e anche genitori alla fine di ogni percorso per valutare possibili proposte o problematiche. E da ultimo il nostro obiettivo è quello di riuscire ad organizzare dei test di confronto magari stessa materia stesso modulo tra classi che abbiano svolto un argomento in CLIL e classi che lo abbiano svolto in italiano con didattica tradizionale per valutare gli effettivi risultati della metodologia non soltanto dell'esposizione linguistica. Questo è un obiettivo che la scuola si pone e vedremo nei prossimi anni. Nel frattempo la mia collega vi riporta la sua testimonianza per far capire quali sono veramente i punti di forza del CLIL e perché noi ci crediamo tanto. Vi posso raccontare che cosa è stato per me l'incontro con i CLIL. Innanzitutto ho sempre amato la lingua inglese, la letteratura inglese pur essendo io un italianista ed insegnavo storia. Lo studio della storia però tante volte era un po' faticoso soprattutto per i ragazzi del biennio e l'idea di avvicinarli alla storia con la lingua inglese fresca e dinamica e con una metodologia attiva coinvolgente di gruppo di squadra in maniera più giocosa è stata secondo me vincente. A mio avviso la metodologia CLIL che prevede lo studente al centro, l'insegnante come guida e come allenatore prima di tutto sulla materia del contenuto quindi per quanto mi riguarda la storia antica e poi l'utilizzo di dinamiche di gruppo, giochi in speaking, presentazioni, letture, acting form è stata a mio avviso vincente. Raccolgo ora i frutti di questo lavoro che oramai ha un suo contenuto, una sua tempistica perché capisco, vedo, sento i ragazzi crescere dal punto di vista linguistico e dal punto di vista così relazionale tra di loro. La possibilità di confrontarsi su un problema e lavorare sui nuclei fondanti della materia storia e poi creare delle timeline notevoli che si soffermino su alcuni punti importanti e poi riuscirli a vedere crescere proprio quindi a parlare su un inglese in maniera molto fluida e serena per me è una grandissima soddisfazione. Perché dico questo? Perché ritengo che la tecnica e quindi le tecnologie, la competenza linguistica prima di tutto in italiano, nella propria lingua madre ma anche in un'altra lingua comunitaria siano fondamentali per uno sbocco lavorativo ad ampio respiro e ad ampio raggio.